Ciao a tutti amici della Vergine, benvenuti nuovi e bentornati agli iscritti. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, chakra, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene? Mostrami, Vergine, tendenze energetiche affettive per la prima parte di settembre 2022. Ok, abbiamo la carta del Papa, amici della Vergine. Si parla di una crescita da un punto di vista spirituale, si parla di un contratto, di un matrimonio anche, perché no? Molte volte il Papa fa riferimento proprio ai contratti di matrimonio. E qualche cosa comunque è un'energia che porta alla luce, che ufficializza qualche tipo di relazione o di situazione. Andiamo a vedere con gli oracoli che cosa vi vogliono dire, qual è il messaggio. Potere superiore. Wow! Qui si tratta proprio di qualche tipo di presa di consapevolezza. Il potere superiore è una carta numero 4 e, se ci fate caso, è rappresentata con una chiave e un fascio di luce che parte dal terzo occhio. Qui è qualcuno che sta sviluppando qualche tipo di dote, c'è qualche tipo di intuizione che arriverà in questo periodo. Andiamo a vedere con i tarocchi di che cosa si tratta nello specifico. Io intanto vi ricordo che sono letture fatte per un collettivo, fatte per un gruppo, quindi non risuonerà tutto. Voi prendete quello che vi serve e lasciate andare il resto dell'universo. Se non dovesse risuonare niente o, se volete completare il vostro messaggio, potete sempre ascoltare l'ascendente segno lunare o venere. Sotto nella descrizione del video poi trovate la mia mail nel caso vogliate contattarmi. Partiamo con un imperatore al contrario e un 6 di coppe al contrario. L'imperatore al contrario è una carta che fa riferimento a qualche tipo di instabilità, anche da un punto di vista materiale, direi, perché comunque l'imperatore è una carta che parla di potere materiale. C'è qualche cosa qui che non è poi così solido come voi pensavate. Può essere una relazione, può essere anche riferito a una casa, a un luogo dove state abitando in questo momento. Quando l'imperatore al contrario parla anche di un certo tipo di flessibilità. Abbiamo il 6 di coppe al contrario e qui normalmente il 6 di coppe parla di un sogno. Sento che qualche magari progetto chiuso nel cassetto piuttosto che un punto d'arrivo, appunto un vostro sogno al quale voi state puntando, però con questo 4 di coppe in realtà state diciamo pensando da un punto di vista della carenza, nel senso che qui siete focalizzati su quello che non avete, invece di rendervi conto di quello che già avete, di gioire diciamo così di quello che già avete. La carta dell'appeso qui vi dà la possibilità di vedere le cose da un altro punto di vista, di aprire se vogliamo anche quello che è una visione di tipo sottile, una visione interna se vogliamo. Normalmente quando arriva l'appeso c'è sempre bisogno di un periodo di introspezione, un periodo di pause diciamo così, che vi dà appunto la possibilità di vedere le cose da un altro punto di vista, da un'altra prospettiva. Queste sono troppe. Ok, vediamo come continuiamo. Abbiamo la sacerdotessa ed ecco che nella seconda parte del periodo arriva quello che è la comunicazione interiore, l'ascolto fondamentalmente di voi stessi, di quello che è la vostra verità e vi porta a una chiarezza mentale direi. Sì, la regina di spade parla sempre di un'energia pronta a tagliare quello che non serve più, è molto determinata, sa quello che vuole, è molto logica, razionale, fa dei piani d'azione, è una persona organizzata, qui si parla di organizzazione da un punto di vista mentale. Wow! Terminiamo poi con un re di pentacoli e un quattro di bastoni. Quindi ragazzi qui sento che, vi faccio notare che l'imperatore è un quattro e qui si termina con un quattro, quindi qui il discorso è proprio riferito ad una casa per qualcuno. Potrebbe essere il contratto per una casa, il firmare un contratto per una casa, perché comunque quando c'è il papa si parla di contratti. O potrebbe essere quello che è un contratto di matrimonio. Se non fosse letteralmente il contratto, anche solo il dire, ok, andiamo a convivere, vabbè il contratto d'affitto si firma lo stesso in effetti. Quindi qui si parte da una sorta di instabilità, di incertezza, di insicurezza, di proiezione anche mi vorrebbe da dire, si sta cercando di… ci si focalizza fondamentalmente su quello che non si ha e su quello che si vorrebbe, o su quello che non è stabile. Qualcuno può essere che abbia perso la casa, che per qualche motivo abbia dovuto vendere o cambiare comunque quello che è la casa e che questo abbia, diciamo, destabilizzato un po' a livello monetario, a livello emotivo. Sento che qualcuno qui si è dovuto allontanare dalla famiglia. L'imperatore per qualcuno fa riferimento a un padre. Può anche essere che molti di voi abbiano una figura che in qualche modo influisca negativamente in quello che è il vostro sogno, perché qui comunque sei di coppa e girato al contrario. Vi dirò, la seconda parte della lettura invece è molto bella, perché qui parla di un nuovo ordine mentale che si acquisisce e avendo poi anche questo re di denari con il quattro di bastoni, sento che il re di denari fa riferimento molte volte ad un terapeuta o una persona generosa che comunque viene in aiuto e per molte persone potrebbe essere proprio la persona con la quale si firma il contratto, perché poi in effetti abbiamo di nuovo un'altra carta di contratti che è il quattro di bastoni, che è anche una carta che parla comunque di famiglia felice, di unione felice, ok? Quindi qui in un certo senso è come se grazie al momento diciamo di riflessione dell'appeso si aprissero questi doni, questo potere spirituale, questa presa di consapevolezza, c'è una comunicazione interna diversa, c'è un diverso modo di ascoltare se stessi e di venirsi incontro. Sì, in realtà forse nella prima parte del periodo sarete un po' così focalizzati magari più su quello che non avete, ma il momento appeso vi darà la possibilità di riorganizzare quello che già avete e alla fine arriverà anche quello che volete voi, quindi quest'unione felice, questo accordo, questo compromesso, quello che è la casa o il contratto di matrimonio. Guardate che ho sia il papa che il quattro di bastoni, tutti e due parlano di contratto di matrimonio, di unione felice, di convivenza, quindi ognuno poi lo applicha e la propria realtà, eh? Andiamo a vedere l'imperatore al contrario, per piacere e grazie, abbiamo un quattro di pentacoli e la temperanza, di nuovo un quattro, qui c'è qualcosa a livello pratico, a livello materiale, a livello, sì, di casa, di denaro, di immobili, di possedimenti che bisogna bilanciare secondo me. Andiamo avanti con il sei di coppe al contrario, quattro di coppe e tre di spade. Io credo che qui qualcuno sia in una fase di quasi anche protezione, se vogliamo, per qualche cosa che è successo nel passato, ripeto, e che vi ha lasciato in questa sensazione di carenza di cui ci parla il quattro di coppe. Io credo che molte persone qui siano ancora focalizzate su quello che hanno perso nel passato, che abbiano paura a fare un certo tipo di passo adesso. Andiamo a vedere il quattro di coppe, per piacere e grazie. La torre al contrario e la sacerdotessa che era già uscita al contrario. Sì, non focalizzatevi su quello che è stato, perché la paura, la paura arriva dall'ego. Qui la carta della torre è proprio per far crollare l'ego. Quindi attivate quello che è la comunicazione interna, perché fondamentalmente pensare, sentire e agire da un punto di vista della paura crea una vibrazione bassa e quindi torna una vibrazione bassa. Andiamo a vedere la carta dell'appeso. È come se ci fosse qualche sogno infranto. Sì, ci sono dei conflitti interiori qui e per quello che voi non vi muovete, siete in questa fase, diciamo così, di stallo. Ma il conflitto interiore lo sento qui, è qualche cosa che ha a che fare con il vostro ego. Probabilmente vi siete messi su una corazza per difendervi e non vi rendete conto che questo vi fa... Guardate, all'ego piace fare la vittima. L'ego si nutre di questo vittimismo. Quindi fate attenzione a nutrire il vostro ego, perché qui c'è bisogno di ridimensionarlo. Quindi cercate di comportarvi come la persona che volete essere. Volete essere una vittima o volete essere un vincente? È un po' quello il discorso della torre. Andiamo a vedere la sacerdotessa per piacere e grazie. Abbiamo un asso di spade e un otto di coppe. L'asso di spade fa riferimento alla chiarezza mentale. Qui arriva la chiarezza mentale. Probabilmente c'è qualche tipo di comunicazione o di verità di cui venite così, di cui prendete coscienza, di cui prendete consapevolezza, che vi porta ad allontanarvi da qualche tipo di emozione o di situazione. sì, è come se una volta fatto questo lavoro sull'ego, iniziate a prendere contatto con l'intuizione e da lì arriva una presa di coscienza. C'è un allontanarsi da qualche tipo di idea, da qualche tipo di emozione o sensazione di vittima o sensazione di carenza. Vediamo la regina di spade che ci dice che così avrete tutto più chiaro. Wow! Gli amanti è un otto di spade al contrario. fantastico perché qui si arriva a fare una scelta, una scelta fatta con e per il cuore. Iniziano a dissiparsi quelli che sono i dubbi, quello che è la vostra era, la vostra negatività e con la regina di spade si inizia ad avere una maggior chiarezza mentale. Come vi dicevo prima, si mettono in ordine i pensieri. Voglio vedere queste due carte alla fine della lettura, il re di pentacoli perché sono carte molto belle. Wow! Di nuovo sei di coppe, il sogno che arriva e la fine della lotta solitaria con questo sette di pentacoli, scusate, bastoni al contrario. Ragazzi, per qualcuno sarà un'unione, sarà un sogno che si avvera, sarà andare in avanti o fare il passo successivo all'interno della relazione, ma fate attenzione a non boicottare voi stessi la stabilità con quello che è la paura che è detta l'ego, la situazione di vittimismo, il fatto di nutrire fondamentalmente il vostro corpo di dolore. Andiamo a vedere più nello specifico per i single se vi posso dire qualche cosa in più perché comunque la lettura non è male, non è male. Ok, io intanto ci tengo a ringraziare tutte le persone che stanno supportando il canale con i like, con i commenti, con le iscrizioni, le condivisioni, con le donazioni, anche con le email, perché ogni tanto mi arriva anche qualche email, quindi grazie davvero a tutti. Andiamo a vedere per i single. Wow, re di coppe, wow, e due di coppe, non male. Arriva una persona ragazzi, otto di bastoni. Qui per i single direi che tolto un attimo questa sorta di pesantezza che è portata dalla torre, arriva questo potere superiore, questa diciamo ufficializzazione, questa scelta per amore. Arriva una persona, magari qualcuno l'ha già conosciuto questa persona, probabilmente non ci si rende tanto conto che potrebbe essere una persona diciamo ideale per voi, per instaurare una relazione di tipo romantico, ma verrà. Diciamo che c'è un compromesso, potrebbe esserci anche un incontro e quello che sento è che vi troverete molto bene a parlare con questa persona. Ci sarà un buon dialogo, anche perché è una persona che avrà un certo spessore a livello emotivo, ok? Va bene, sono molto contenta per voi, single della Vergine. Andiamo a vedere per le persone che hanno una relazione, sono già uscite tre carte, quindi direi di tenere queste. Il karma, che sarebbe la carta del giudizio, l'asso di bastoni e la regina di spade, al contrario. Ecco, forse qui con la carta del karma, qui avevamo questo sei di coppe, c'è qualche tipo di presa di consapevolezza, riferita se vogliamo anche al passato, c'è una sorta di evoluzione, sento, in quello che è un'azione, un movimento. L'asso di bastoni parla sempre di un'azione di tipo deciso, di tipo concreto, ok? Ci si sta muovendo in una direzione, anche se sento che in questo caso specifico non si sa ancora bene da che parte si vada, ok? Però comunque, avendola nella lettura, diciamo, di base al dritto, la regina di spade porta sempre quello che è una chiarezza mentale. Ecco, forse siete in una fase di crescita della relazione. Direi che il consiglio delle carte è di ravvivare un po' la camera da letto, se vogliamo, e lasciare un po' perdere le regole, lasciare un po' perdere le strutture, vivere un po' più a livello istintuale, di pancia. Vi ripeto, qui avete bisogno di acutizzare, acuire l'intuizione, non tanto la razione, perché poi essere troppo razionali, essere troppo mentali, porta a una sorta di freddezza, è per quello che qui il consiglio è di, non so, giocare un po' di più anche col vostro partner, ritrovare un po' l'entusiasmo, forse che manca, semplicemente ravvivare quello che è l'entusiasmo, ok? Perché ci sono tutti i presupposti, perché le cose migliorino e vadano sempre meglio. Vi ricordo che la fine della stesa ha un quadro di bastoni, che è un'unione felice. Andiamo a vedere l'ultimo gruppo, quindi le persone che sono in una relazione a distanza, clandestina o in separazione. 6 di spade, quindi qui abbiamo una carta che ci parla di un allontanarsi da qualche tipo di idea, da qualche tipo di condizionamento o di struttura mentale, se vogliamo. Vi ricordo che qua c'era da dimensionare l'ego, eh? Poi abbiamo il fante di spade e un 7 di spade al contrario. Infatti, qui si tratta proprio di che cosa voglio io e che cos'è per il più alto bene di entrambe. C'è molto ego qui da elaborare e da lasciare indietro. Il 6 di spade parla di condizionamenti mentali che sono avvenuti durante l'infanzia. E di conseguenza abbiamo anche questo fante di spade, che parla di una sorta di controllo. Qualcuno qui vuole un po' comandare un po' troppo, diciamo. Il problema qual è? Che qui ci sono delle proiezioni che verranno poi fuori. Il 7 di spade, al contrario, parla di verità che vengono a galla, di bugie che vengono scoperte. Non tanto perché qualcuno ve le dice, ma perché le intuite. Qui si tratta di lavorare sulla vostra intuizione, ok? Bene, andiamo a vedere ancora una carta da parte delle fatine per gli amici della Vergine per chiudere la lettura. Wow, abbiamo la carta della saggezza, ragazzi. Questa carta vi ricorda che avete acquisito comunque una saggezza nel corso degli anni. Vedete che anche il Papa ha la barba. La barba indica proprio il fatto di essere saggi. Quindi vi dice, adesso è tempo di attingere a quella saggezza che vi potrà aiutare in questo tipo di sfida, nella sfida del momento. Quindi qui si tratta di essere saggi, di lavorare sulla vostra intuizione e di mettere in ordine i pensieri, ragazzi. Guardate, il gruppo migliore è quello dei single. Mi spiace per gli altri, ma devo dire che il gruppo migliore della Vergine è quello dei single. Va bene, cari amici della Vergine, questo è quello che avevo per voi. Io spero che in qualche modo la lettura vi sia stata utile. Vi ringrazio di essere stati qui con me. Vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao, ciao.